Antonio Giarusso, vincitore per la sezione Startup Intelligenza Artificiale. Come ti senti per aver vinto questo premio? Sicuramente molto felice anche di poter raccontare la mia storia ad altri giovani. Che fai nella vita? Qual è la tua storia? Dicci un po'. Allora, è una storia un po' particolare perché io sono un ingegnere quindi molto brevemente mentre ero in ingegneria ho sviluppato un'applicazione di matematica che poi ha avuto un successo incredibile in tutto il mondo, ha raggiunto 4 milioni di utenti e quindi da lì ho deciso di fondare una mia azienda a Londra che si chiama MobXE Limited, ho avviato quindi una carriera imprenditoriale e da questa esperienza a Londra poi ho fondato un'azienda che fa intelligenza artificiale che è UserBot. E il premio Italia Giovanni come l'hai conosciuto? In realtà sono stati degli amici a parlarmene dopo che hanno sentito delle esperienze di altri giovani che hanno vinto il premio e quindi mi hanno parlato assolutamente molto bene perché sembra un'iniziativa che permette ad altri giovani di affrontare in modo diverso le difficoltà anche di, vabbè, da una parte di fare imprese in Italia per chi fa impresa ma anche per altre attività artistiche o di altri meriti. Progetti per il futuro? Continuare, ormai sono un imprenditore quindi continuare a far crescere l'azienda il più possibile. Congratulazioni, grazie.